Caro diario, l'amore morde. A volte ti fa sentire come la cosa più grande del mondo, ma l'amore può anche farti perdere il controllo, spaventarti, come se ti divorassi, per non far rimanere traccia di te. L'amore ti succhia l'anima. La mercoledì 15 dicembre alle 21 e 10, in prima visione Italia 1, Bobba e Digest. L'amore è una questione di santo.